Bentornati, siamo alla parte finale del nostro evento, il terzo panel, sarete stancati di vedermi, tocca sempre a me, il tema di questo panel lo potete vedere, la sostenibilità dei trasporti marittimi, il futuro dei porti e delle flotte navali, in attesa che arrivi l'Onorevole De Idda che è il Presidente della Commissione dei Trasporti, sta arrivando, alla mia destra c'è Lorenzo Basso, il Senatore Lorenzo Basso che è Vice Presidente della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazione, Innovazione, insomma abbiamo capito, Innovazione Tecnologica abbiamo capito, alla mia sinistra c'è Pino Musolino che è Presidente di MedPorts e dell'autorità portuale Martirreno Centro-Settentrionale. Ho scoperto che c'è un mondo legato ai porti e dovrebbe essere collegata da remoto Manuela Tommassini di Emsa, ce l'abbiamo e la salutiamo, buon pomeriggio, complimenti per la location, devo dire che un po' la invidiamo, un po' la invidiamo, fa bel tempo in Portogliette. Vado a trovare quando volete, Lisbona e Emsa ha le porte sempre aperte. Guardi, colgo l'invito allora, colgo l'invito, la vengo a trovare, vediamo tutti, diventa un albergo, va bene, insomma al di là delle battute, insomma il tema è quanto mai caldo, intorno, l'Italia si dice che è una nazione di santi poeti e navigatori e quindi tutto ciò che riguarda i porti, la navigazione deve stare a cuore a tutti noi e rappresenta uno sbocco importante a livello commerciale, a livello strategico. Mi dispiace che non possa essere con noi Zeno D'Agostino, che è Presidente dell'autorità portuale di Trieste, a Trieste stanno facendo un enorme lavoro per il rilancio, la costruzione di Porto Vivo, il rilancio del porto di Trieste, e anche quello sarà sicuramente una porta d'ingresso verso l'Asia, verso l'Oriente, speriamo di riaverlo con noi in un'altra occasione. Io dico che incominciamo subito con lei, Senatore, parlando di l'ultimo G7 dei trasporti che si è svolto in Giappone, ha partecipato il Vice Ministro Rixi, che poi tra l'altro avremo un suo messaggio nella parte finale di questo panel, si è parlato in questo incontro della creazione di 14 nuovi corridoi di shipping green, ovviamente, entro la metà del prossimo dicembre per aumentare, accelerare i processi di decarbonizzazione. È vero? Perché quando ci raccontano queste cose uno può dire che tra dieci anni succede, è vero? Grazie dell'invito e complimenti per l'iniziativa, mi hanno raccontato anche di una mattinata in cui è molto interessante, e mi scuso per non aver potuto partecipare per progressi impegni istituzionali. e non dubito che siano vere le dichiarazioni del Vice Ministro Rixi, se non altro perché sebbene da parti politiche diverse ci conosciamo da tanti anni, essendo entrambi genovesi, e quindi credo che siano dichiarazioni vere, quelle che dal G7 sia arrivato un impegno, se invece mi chiede se è vero che riusciremo a realizzare questo impegno, ovviamente so che ci sono tante problematiche. Credo però che il metodo sia importante, e mi auguro davvero che vengano rispettati gli impegni e le tempistiche di questi impegni, ma più importante di tutto è il metodo che a livello internazionale è stato dato, e su cui invece ho qualche dubbio in più rispetto a quanto si sta facendo qui nel Paese, e cerco di spiegarmi meglio. Credo che sia importante dare degli obiettivi ambiziosi, e dandosi però anche degli step con cui raggiungerli. È evidente che arrivare al 2050 con un'emissione zero da parte dell'intero sistema è molto difficile, ma darsi quella scadenza significa lavorare, finalizzare finanziamenti, incentivare la ricerca e sviluppo, andare a costruire nel cluster del mare un comune sentire di tutti i soggetti per arrivare a raggiungere quell'obiettivo. E farlo attraverso delle tappe intermedie, come appunto quella dei 14 corridoi o altre tappe che sono state definite a livello internazionale, secondo me è il metodo giusto, perché il rischio molto spesso che abbiamo noi invece in Italia è quello di frenare il cambiamento, di fare resistenza, e poi chiedere a tutti di farlo in poco tempo. È vero che è una dote italiana la flessibilità e questa capacità creativa di un adattamento più rapido e veloce di altri sistemi, però in sistemi così complessi come appunto è quello di cui stiamo parlando, che riguarda sicuramente il trasporto marittimo, ma tutta la logistica che insiste per quanto riguarda le merci, è evidente che non si può realizzare dall'oggi al domani. E quindi questo è, secondo me, un buon obiettivo. Poi bisogna esserci, nel senso che a me la preoccupazione maggiore non viene dal fatto che questo risultato sarà raggiunto con qualche mese in più, qualche mese in meno, ma che l'Italia sia protagonista e quindi, come dire, di far sì che noi siamo dentro e noi possiamo essere fra coloro che sperimentano, perché essere dentro significa portare il nostro sistema a sperimentare, a raggiungere prima gli obiettivi e magari non dover rincorrere con maggiori costi e con perdita di competitività. Quindi credo che questo sia il vero nodo. Quindi bene, molto bene questo obiettivo. Molto bene che in questo obiettivo ci sia non soltanto il tema dell'inquinamento dal punto di vista atmosferico, quindi quello che noi usiamo come parametro principale, l'emissione di CO2, ma ci sia anche l'impatto sul mare. Quindi qualcosa che molto spesso viene eluso dalle nostre discussioni, che sono gli impatti sull'ecosistema marino, sulle acque, perché è vero che ad oggi, anche a parità, quindi prima ancora di arrivare ai nuovi sistemi, ai nuovi carburanti, l'impatto del trasporto su mare è quello meno inquinante di tutti gli altri sistemi di trasporto merci. Cioè, nonostante, darsi obiettivi ambiziosi per ridurre l'inquinamento atmosferico e l'impatto sull'ambiente marino, serve a renderlo sempre di più un sistema che può essere sostenuto, perché il paradigma della transizione ecologica è quella che i sostegni, ed è un po' anche il principio di fondo dei nuovi finanziamenti europei, è che i sostegni devono andare in quei sistemi industriali, logistici, di trasporto, che vanno a raggiungere quegli obiettivi. Quindi, benvenga il metodo, benvengano i corridoi, un appello perché l'Italia sia protagonista e non debba inseguire questi obiettivi. Grazie Senatore. Mi collego con Lisbona e chiedo alla dottoressa Tommasini che ruolo può svolgere l'EMSA nel processo di decarbonizzazione dei nostri porti e di tutto lo shipping? Voi siete un... Mi sente? Sì, sì, la sento, la sento. Dicevo, voi siete l'autorità UE per la sicurezza, no? Quindi, che ruolo potete svolgere e che vi sentite di svolgere? Abbiamo safety, sicurezza nel nostro nome, però ovviamente siamo l'agenzia che si occupa in generale dei trasporti marittimi. Infatti, lavoriamo sulla sostenibilità che ormai è diventato un volé, direi, sostanziale del nostro lavoro. Lavoriamo anche sulla security, ovviamente, infatti abbiamo le 5S della nostra strategia e c'è anche ovviamente la surveillance, quindi i sistemi di sorveglianza marittimi ed infine tutto il volé della digitalizzazione. Siamo un'agenzia tecnica, quindi siamo un'agenzia che è al fianco della Commissione dei Paesi membri in tutte le attività che caratterizzano i trasporti marittimi. quindi in questo momento siamo in prima linea su tutta l'implementazione della legislazione che è stata adottata a livello europeo. Tutti voi siete al corrente che ci sono delle scadenze ormai molto prossime con l'estensione dell'ETS, dell'European Trading System, ai trasporti marittimi. Quindi ci sarà l'applicazione del principio di chi inquina paga anche nei trasporti marittimi e questo sarà un sistema che inizierà ad entrare in vigore il primo gennaio 2024, quindi praticamente adesso. E poi c'è tutto il volé che è in relazione appunto alle attività collegate alle nuove fonti di energia che devono essere incentivate e quindi è un regolamento che è conosciuto da tutti come fuel EU Maritime. Sono due pilastri della legislazione comunitaria che spingeranno per la decarbonizzazione del trasporto marittimo ma hanno bisogno di tutta una serie di attività collaterali a supporto dell'implementazione. In primis lo sviluppo di un database che dovrà essere accessibile anche all'industria, quindi alle compagnie, per il monitoraggio di dati fondamentali complessi il consumo di energia a bordo e questi sistemi sono effettivamente in corso di sviluppo qui all'EMSA, quindi siamo stati incaricati proprio di sviluppare questi sistemi. Accanto al volé dell'implementazione della legislazione noi ci poniamo come agenzia tecnica per riempire quei knowledge gaps che ci sono in questo momento. Quindi abbiamo tutta una serie di studi che sono in corso di... Alcuni sono già stati presentati, altri saranno presentati nei prossimi mesi. Ci siamo appunto focalizzati sui combustibili che sono più promising per i trasporti marittimi, quindi abbiamo iniziato con i biofuels che sono il plug-in concept con cui l'adattamento anche per il retrofitting di navi esistenti è relativamente limitato, per poi passare ad ammonia che è un'altra ovviamente opzione che sotto certe condizioni ha ovviamente dei pro che saranno ovviamente esaminati nei vari business cases che ci saranno e quest'anno stiamo presentando Wind Assisting Propulsion quindi l'energia eolica per lo shipping e idrogeno. Continueremo poi a assaggiare l'energia nucleare perché c'è anche quello da considerare e altre metodologie tecniche che verranno come il carbon capture che sarà un'altra misura molto importante per la decarbonizzazione del trasporto marittimo. Accanto al volé ambientale c'è il volé sicurezza perché ci sarà ovviamente la trasformazione dello shipping che deve andare hand in hand con la sicurezza e anche qui abbiamo stiamo riempendo i nostri knowledge gaps per offrire questo tipo di informazione e supportare l'industria nella trasformazione. Infine l'altro elemento importantissimo che non possiamo dimenticare è l'elemento umano perché la trasformazione verde implicherà anche tutta una serie di nuove competenze di nuove professioni. I nostri marittimi dovranno ovviamente essere in grado di gestire le nuove navi e le nuove attività nei porti e questo è un altro volé dove noi stiamo appunto indagando. Infine c'è il volé del capacity building come possiamo supportare le autorità competenti perché anche nelle autorità competenti nuove professioni si materializzeranno e dovranno essere in grado quindi di controllare e verificare che tutto il sistema che sarà organizzato in ciascun paese membro funzioni in una maniera efficiente e quindi questo è il nostro ruolo un ruolo di supporto soprattutto una volta che i bisogni sono stati identificati siamo lì per aiutare questa trasformazione. La ringrazio intanto do il benvenuto in sala a Salvatore Deida che ho incrociato qualche mese fa a un ristorante romano alla Campana che stava per partire il governo si ricorda e c'erano le nomi delle commissioni e per scaramanzia non si disse niente ma io sapevo che lei sarebbe diventato presidente della sua commissione. Allora visto che è arrivato la faccio parlare e le pongo subito una domanda. L'Italia è un paese in cui l'incidenza del trasporto marittimo è sempre stata importante ma ultimamente lo è diventato ancora di più rappresenta anche in chiave ovviamente di decarbonizzazione di transizione ecologica una delle grandi sfide che aspetta il nostro paese ma che aspetta anche questo governo se durerà ancora per lei altri quattro anni. Buongiorno a tutti sì quello almeno metto la mano sul fuoco che durerà almeno altri quattro anni. Può fare gli scongiuri. No no ma no nessuno scongiuro perché poi quasi tutti quasi non credevano che fosse un anno in cui il presidente soprattutto Giorgia Meloni soprattutto lei riuscisse a conquistare comunque la scena internazionale con la serietà e comunque anche la la consapevolezza comunque del ruolo dell'Italia anche soprattutto nel nel settore quello dei trasporti e nel mondo anche marittimo perché poi noi stiamo riconquistando soprattutto la scena nel Mediterraneo prima di tutto mettendo al centro del governo l'azione quella del Ministero del Mare che molti hanno ancora il punto interrogativo dicendo cosa serve il Ministero del Mare come primo atto ha fatto il piano del mare che tra poco presenterà comunque in commissione una commissione di trasporti soprattutto coinvolgendo tutti quelli che sono i soggetti che ruotano nel mondo del mare e come commissione di trasporti come primo atto sarà che sono sardo quindi gira una battuta nei social dicendo i mezzi di trasporto dei sardi preferiti sono le navi e gli aerei quindi come se fossimo poi avessimo un'alternativa quindi le navi sono il nostro 50% di mezzi di trasporto sia delle persone che delle merci e quindi come primo atto ho indetto una commissione di indagine non commissione di indagine un'indagine conoscitiva proprio sul trasporto delle persone e delle merci via mare abbiamo incominciato adesso poche settimane fa la prima cosa che è emersa la grande difficoltà da parte degli armatori davanti a questa transizione ecologica soprattutto davanti alle decisioni dell'Unione Europea che è inserito anche il mondo marittimo in quello che è l'ETS quindi una tassa sull'inquinamento a volte senza rendersi conto per esempio che anche i traghetti che garantiscono la continuità territoriale rientrano in quella tassa e quindi gli armatori sono davanti a una grande spesa dovuta davanti a un traffico che garantisce invece svolge un servizio pubblico perché anche quello delle isole minori per esempio non parlo solo della Sardegna della Sicilia o dell'isola d'Elba è un servizio pubblico che lo Stato deve affrontare quindi noi praticamente pagheremo una tassa anche su quel servizio pubblico che noi adottiamo parliamo dei porti noi adesso abbiamo fatto una legge degli interporti che sarà ripresa fra pochi giorni dopo appunto delle risoluzioni sui porti dove esaminiamo per esempio gli oneri di concessione poi parliamo di quelli che sono i costi dentro le autorità portuali il ruolo delle autorità portuali che nessuno voglio garantire vuole privatizzare al di là di quello che è il dibattito politico può far uscire però il ruolo delle autorità portuali di quelli che sono le esigenze delle autorità portuali è considerato che i porti io vengo da una città come Cagliari che sta rivalutando l'area portuale proprio che non è più distinta dal resto della città ma integrata col tessuto urbano ed è diventato un luogo dove si vive tutto il giorno il porto non è più quindi il porto considerato solo degli ormeggiatori degli armatori ma tutti i cittadini vivono integrati con tutti quelli che sono i servizi quindi abbiamo bisogno di trasformare i porti in comunità energetica è vero perché è vero che adesso i mezzi devono andare elettrico tutto elettrico ma là dobbiamo dare le autorità portuali gli approvvigionamenti elettrici dobbiamo dargli anche gli strumenti per fronteggiare eventuali guasti o incidenti dovuti all'elettrico perché poi un fatto che sta emergendo anche nei lavori della Commissione è che l'incendio dovuto al cortocircuito elettrico non si spegne come un normale incendio dovuto ai carburanti fossili quindi tutti spingiamo soprattutto in Italia si spingeva verso l'elettrico senza adottare poi le strutture che li ospitano degli adeguati mezzi per adeguarsi anche ai problemi quindi i porti sono all'oggetto di questo nostro primo anno di Commissione entro l'anno secondo me ci sarà la legge delega di riforma dei porti quindi daremo al governo questa legge delega sulla riforma dei porti dandogli degli indirizzi ben precisi e cercheremo anche nella legge di bilancio è molto stretta il presidente Giorgio Ameloni ha già munito tutti noi proprio per avere la prudenza in quello che sono gli investimenti dare comunque anche alle autorità portuali quelle risorse necessarie se vogliamo mantenere il pubblico una garanzia anche che semplificeremo quelle che sono le regole proprio di controllo e di indirizzo del mondo portuale ecco quello che è il nostro obiettivo è smetterla di farsi la guerra tra porti e tra autorità portuali ma dare comunque degli indirizzi nazionali perché nel mentre che noi litighiamo fra regioni o litighiamo fra chi ha il porto canale più bello porto merci più bello ci sono nelle coste comunque slave quelle anche nordafricane tanti investitori che stanno allargando la portualità è a discapito nostro ecco noi smettiamola di litigare tra noi e daremo una struttura che dia un indirizzo ben preciso rendendo i porti anche quel centro di intermodalità che deve essere invece costruito io con orgoglio posso dire che abbiamo sbloccato finalmente quello che è il collegamento ferroviario dal porto di Napoli interporti di Nola e Marcianise era un cavillo che veniva bloccato per se scegliere o il passo ferroviario o quello stradale abbiamo deciso col comune abbiamo fatto riunione il comune l'autorità portuale e anche RFI proprio per sbloccare questo progetto ecco tutti i porti devono essere collegati con la ferrovia e devono avere comunque un sistema intermodale proprio per rendere più fruibile la città e il porto mi sono dilungato scusi va benissimo così anche perché ho scoperto che si litiga anche tra i porti e quindi lei litiga? no a meno che non sia strettamente necessario normalmente no c'è la domanda però detto che lei non litiga detto che lei non litiga a meno che non sia strettamente necessario poi se è necessaria la pugna siamo pronti benissimo porti Civitavecchio Fiumicino e Gaeta voi avete sostenuto degli investimenti importanti sicuramente il governo vi darà una mano e erargirà altri altri soldi altre sovvenzioni però al di là delle battute la linea è quella di indirizzarsi verso fonti rinnovabili che possano essere meno impattanti sotto il profilo economico sotto il profilo dell'inquinamento guardi poi rispondo alla sua domanda però mi fa fare un leggero cappello su questo perché se no pare che noi come dire nei porti si investe in sostenibilità o in misure green perché improvvisamente è diventato di moda oppure perché come dire la sensibilità del momento è questa in questo momento non tanto non solo nei porti ma in generale l'investimento verso una transizione di modello di cui la transizione ecologica è solo una parte è essenziale non è che abbiamo tante alternative anche quello vi do un paio di dati Munich Reck è un'importante società che fa assicurazione e riassicurazione ha calcolato che negli ultimi dieci anni il mondo ha speso 120 miliardi di dollari in assicurazione e riassicurazione per danni causati dal climate change per cui anche se sei un fanatico inquinatore e ti piace andare a carbone però non penso tu da imprenditore o da cittadino o di sdegni avere una paga dentro la tua tasca oggi non è più pensabile che tu non tenga conto del fatto che bisogna cambiare alcune cose perché perdi soldi non è più solo l'idea dell'IPSER che bisogna fare la misura green è perché anche se sei paperonte e paperoni e odi l'ambiente in questo momento non intervenire su questo significa creare diseconomie peraltro voi sapete che alcuni dei goal abbastanza ambiziosi sulla decarbonizzazione e tra l'altro ricordatevi si chiamavano si chiamano sdg2030 li abbiamo pensati come mondo nel 2015 ci pareva tantissimo un quindicennio davanti dei 17 goal e dei 169 sotto goal ne abbiamo presi 15% e siamo al 2024 perché c'era il 2030 perché hanno fissato il 2030 perché è carino da scrivere un 20 e un 30 no perché ogni anno successivo al 2030 avrà un effetto più che esponenziale sulla capacità del pianeta di diminuire quello che è il nemico principale cioè l'innalzamento della temperatura del pianeta noi abbiamo un goal che è stare sotto al grado 1.5 gradi centigradi rispetto ai livelli di calore preindustrializzazione vi do una notizia nel 2023 finora il 33% dei giorni ha superato l'1.5 quindi alla francese non sono fatti noi siamo già oltre il livello che ci eravamo vissati al 2030 nel 2023 senza aver fatto molto l'avete visto tutti oltre ad aver sofferto tantissimo il caldo tutti quanti abbiamo visto inondazioni incredibili la Libia nessuno ne ha parlato l'anno scorso ma il Pakistan è stato devastato l'anno scorso da inondazioni incredibili cioè il pianeta sta cambiando chi nega quello come dire nega un'evidenza scientifica che ormai è di tutti poi possiamo capire quanto abbiamo avuto un impatto o meno però è necessario per tornare alla sua domanda ecco perché nel mio campo visto che io ho l'opportunità l'onore e il piacere di essere presente in un'autorità portuale posso fare delle cose investo e ho cercato di investire pesantemente nei limiti del possibile su questo campo non perché io ami le margheritine o quant'altro ma perché è l'unico modo che abbiamo per interpretare un modello di crescita differente diceva prima se posso la dottoressa Tomassini le decarbonizzazioni l'ammonia poi se volete ci arriviamo però c'è una misura che potrebbe essere fatta come dire a costo zero perché è una misura legislativa è che si imponi uno slow steaming cioè si imponi velocità più basse di collegamento già bassi dal 10 al 15 al 20% il livello di emissioni non serve investire non serve cambiare non serve modificare le navi chiaro rallenta alcuni processi modifica alcuni aspetti di quella che è stata una globalizzazione molto rapida che abbiamo visto negli anni dal 90 fino a recentemente probabilmente potrebbe avere un impatto in termini di costi o in termini di disponibilità di alcune tipologie di merce ma già ci permette di cambiare a livello di emissioni se la priorità è abbassare il gradiente di emissioni inquinanti noi abbiamo una serie di misure che non sono scoperte la pietra filosofale ma cambiare il modello di business che oggi diamo per assodato ma non è scritto sulle tavole della legge e quindi ci sono delle misure che non sono nemmeno scientifiche sono semplicemente ma siamo sicuri che come le abbiamo fatte fino ad oggi funziona faccio un altro esempio che avevo implementato quando facevo il presidente a Venezia una parte consistente dell'inquinamento nei porti dato dal trasporto su terra è perché i camion arrivano tutti a un orario stanno più o meno in coda e aspettano di caricare le merci nel terminal con un semplice software e con una semplice georeferenziazione puoi dire più o meno a slot non venire alle 15 e 30 camion numero 7 perché alle 15 e 30 ci sarà il camion numero 6 prendi pure una pausa vieni dopo e fai una programmazione che poi è quello che stanno facendo alcuni porti avanzati con il concetto del just in time di arrivo della nave perché mutanti smutanti si può applicare sulla nave anche in questo caso non è un investimento su milioni di euro di cold ironing piuttosto di cose è un cambio di mentalità aveva molto ragione la dottoressa Tomazzini quando dice dobbiamo investire nelle persone perché se noi continuiamo a utilizzare persone che hanno gli occhiali del 1950 è molto difficile che vedano il 2050 come prospettiva ecco perché noi facciamo questo tipo di investimenti investiamo sulla formazione abbiamo un ITS dove stiamo cercando di investire per creare i talenti logistici del futuro abbiamo una collaborazione con le scuole europee perché poi i porti ogni tanto litigano ma poi col porto di Barcellona col porto di Marsiglia abbiamo una fortissima collaborazione perché alla fine condividiamo i problemi e abbiamo un ottimo scambio di buone pratiche cioè noi dobbiamo diceva la ruba Barack Obama lui diceva di se stesso che era un pragmatic dreamer ecco noi dobbiamo fare questo nell'ambito della sostenibilità dobbiamo avere una visione essere sognatori ma essere molto pragmatici perché appunto il 2023 è oggi i cambiamenti climatici sono oggi quindi a costo di dover rendere conto alla corte dei conti fra cinque anni che mi ha chiesto perché ha investito su una ricerca sull'ammoniaca perché ha investito su un elettrolizzatore e io rispondevo perché ritenevo in quel momento che fosse necessario e giusto che lo Stato aiutasse a creare un percorso di ricerca anche a tentoni se volete chiaro che non li buttiamo fuori dalla finestra perché in questo momento non c'è terra incognita non c'è una certezza e abbiamo il dovere di sperimentare e prima o poi fra decina di anni forse prima troveremo le due o tre soluzioni che effettivamente potranno essere quelle del futuro il ruolo di quella strana ente pubblico che citava il presidente che è l'autorità di sistema portuale e questo noi non ci rivolgiamo alla totalità degli stakeholder noi non siamo i comuni o le regioni che parlano a tutti i cittadini noi abbiamo degli stakeholder particolari che sono gli imprenditori e i lavoratori e qui dobbiamo da un lato funzionare da arbitro e controllore pubblico ma dall'altro incentivare la libera intrapresa e creare le condizioni per fare questo tipo di cambiamento e per farlo lo scrivevo qualche giorno fa la sostenibilità si pratica non si annuncia perché non ce l'abbiamo più il tempo per annunciarle e basta grazie io mi devo ricollegare se c'è ancora perché poi so che deve andare via con la dottoressa Tommasini e le faccio questa domanda che ne avevo un'altra in testa ma parlando mi è venuta in mente con tutti gli sforzi che voi state facendo come Emsa come Europa come UE lei pensa che anche le altre grandi nazioni gli altri grandi continenti siano indirizzati in questa direzione la Cina l'India stanno facendo i nostri stessi sforzi perché noi comunque come Europa lei sa siamo al 7,8 7,9% della produzione di gas serra mondiale siamo poco gli altri inquinano molto più di noi le posso dire che molto è cambiato da questo luglio perché voi sapete che c'è l'organizzazione l'International Maritime Organization io mi scuso perché sono abituata a lavorare in inglese quindi molte cose non mi vengono naturalmente in italiano quindi mi dovete perdonare se uso parole che sono più inglesi a volte questo luglio hanno adottato nel contesto dell'organizzazione marittima internazionale una nuova strategia per la riduzione delle emissioni dallo shipping ed è stata adottata all'unanimità quindi è una strategia che si allinea all'obiettivo del 2050 che l'Unione Europea porta avanti ormai da tanto tempo ma non perché è l'Unione Europea ma perché sono gli impegni che sono stati assunti da tutti questa strategia ora deve essere tradotta in misure concrete con un orizzonte temporale molto prossimo quindi al 2027 ci saranno delle azioni concrete che dovranno essere adottate e condivise già stanno lavorando con dei gruppi di lavoro e l'organizzazione marittima internazionale come dice la stessa parola ha tutti i players compresi l'India e compresi la Cina ero due giorni fa a Cipro per Maritime Cyprus e lì c'era il ministro di trasporto indiano l'India è molto vede comunque nella rivoluzione verde un'opportunità molti di questi paesi saranno suppliers di energie rinnovabili quindi c'è comunque un forte movimento e sono molto contenta di sentire comunque che anche sul fronte italiano c'è una chiara indicazione che è tempo per azione basta parole perché comunque l'opportunità deve essere colta ora non possiamo stare ad aspettare di avere tutte le risposte perché se aspettiamo di avere tutte le risposte arriveremo troppo tardi bisogna assumere dei rischi perché ci sono dei rischi da assumere ma questo potrebbe veramente essere un'opportunità per il sistema paese tutti lo dicono e si sta muovendo tanto in tante parti del mondo quindi è molto importante che il sistema Italia non perdi questa opportunità quindi bisogna fare proprio un embracing del cambiamento ed è a tutti i livelli cioè dal livello nazionale con una strategia dell'energia perché c'è bisogno di una strategia dell'energia a livello locale quindi spero proprio di vedere dei segnali che ci sono già perché ci sono molti progetti che sono in movimento che vadano in questa direzione quindi direi che l'engagement del livello internazionale c'è non è una corsa non è che bisogna arrivare prima degli altri perché al traguardo finale tutti devono arrivare però l'importante è che ci sia veramente engagement e il segnale che vediamo è che i grandi players sullo scenario internazionale non sono assolutamente insensibili a questo al contrario io la ringrazio se vuole restare ancora con noi è un piacere se invece deve liberarci grazie sarà per la la prossima volta la ringrazio mi saluti Lisbona a presto a presto arrivederci arrivederci torniamo a noi a Roma che non è poi male Lisbona è stata bene ma non è poi male senatore quanto è importante la digitalizzazione nei processi di carbonizzazione anche per quanto riguarda la parte del trasporto marittimo della portualità credo sia molto importante e sia importante fra l'altro il presidente Musolino prima ha fatto anche un esempio appunto concreto di quanto possa accelerare dei processi in maniera più veloce rispetto anche a dei processi che hanno bisogno di tempistiche penso per esempio alle nuove carburanti a tecnologie che avranno comunque necessità di tempi di implementazione più lunghi e invece tutti i processi di digitalizzazione sono processi che possono portare a risultati concreti in tempi molto più rapidi fra l'altro nonostante diamo un giudizio diverso con il collega sul governo però io mi sento di sostenere che ci sia un'attenzione molto forte alle politiche del mare poi ripeto io da un giudizio più positivo io vedo un po' di visioni frastagliate e di diversi scenari fatti da ministeri differenti però ammetto questo c'è un'attenzione sul mare e la commissione appunto la camera ha raccontato al presidente noi al senato come commissione trasporti e ambiente abbiamo proprio avviato e queste settimane sono state le prime audizioni un'indagine conoscitiva sugli impatti della tecnologia su tutto il sistema dei porti della logistica e proprio per come dire andare a capire qual è lo stato di implementazione nel nostro sistema logistico e dei trasporti e qual è quello che invece può essere ancora realizzato e credo che su questo ci sia una grande sottovalutazione ma non del governo una grande sottovalutazione di tutto il sistema perché oggi potremo andare a ottimizzare dei processi riducendo l'impatto non solo in termini di emissione di CO2 ma un impatto ambientale in termini anche più forti di riduzione dei costi andando a ottimizzare per esempio penso che il presidente Mussolino facesse riferimento a questo andando alla creazione di digital twin che possono ottimizzare questi processi andando a rallentare non magari tutte le navi o tutti i tir che si avvicinano al porto ma quelli che appunto dovranno poi incontrare la nave successivamente piuttosto che non quelle navi che non riusciranno comunque a sbarcare direttamente questo sarebbe un risparmio per la nave in movimento sarebbe un risparmio per non ingolfare magari quel terminal e anche per l'uscita o l'entrata dal terminal in termini di emissioni quindi un sistema di appunto simulazione in tempo reale come è un digital twin complesso perché deve mettere insieme tanti attori quindi non lo banalizzo però obiettivamente stiamo parlando di tecnologie digitali lo dico da imprenditore che lavora in questo campo non mature di più che quindi sono già a disposizione permetterebbe un'ottimizzazione dei processi una riduzione delle emissioni con tempi di risposta che sono non di decenni forse neanche di anni ma di mesi nel senso che la realizzazione di un digital twin di un terminal si può realizzare in pochi mesi di un sistema più complesso intermodale in poco più di un anno e io appunto ricordavo prima vengo da una realtà come quella genovese in cui dopo la grande tragedia del crollo del ponte Morandi ci sono stati molti problemi ancora oggi persistono quindi è una realtà complessa chiunque l'abbia attraversata lo sa sia per il traffico privato e ancora di più per quello merci ecco visto grandi investimenti e guardate che quindi sto parlando di più governi non è assolutamente un riferimento all'attuale perché viene da distante grandi investimenti in infrastrutture fisiche con prospettive a decennali pochi investimenti su tecnologie che permettessero questa ottimizzazione dei flussi andando anche a dare un risultato concreto e andando anche a fare una cosa che secondo me è fondamentale e forse non l'abbiamo ancora toccato che è quello di dimostrare anche all'opinione pubblica al grande pubblico che la riduzione dell'impatto ambientale dei trasporti marittimi la riduzione dell'impatto che hanno le navi che si fermano in porto può produrre anche un sostegno maggiore appunto a queste politiche di transizione ecologica di cui noi abbiamo bisogno perché se è vero quello che dicevo prima è vero che già oggi il trasporto via mare è il sistema che ha il minore impatto ambientale rispetto a tutti gli altri sistemi di trasporto è anche vero che oggi molti cittadini vivono il fumo della nave in porto vivono soltanto l'ultimo miglio però vivendo quello hanno una resistenza anche allo sviluppo al sostegno finanziario di questo tipo di trasporto quindi riuscire ad affrontare ad aggredire l'ultimo miglio quel impatto che arriva e lo si fa sicuramente con il cold ironing con molte delle politiche implementate ma soprattutto con un processo di digitalizzazione che permetta di ottimizzare i processi e ridurre i sovrapporsi appunto di trasporti e quindi di attesa e di inquinamento è quello che potrebbe oggi dare la risposta più veloce quindi direi che se dobbiamo darci una priorità quella sarebbe la priorità perché a parità di costi a parità di investimenti dà la risposta più veloce e più impattante poi non basta perché appunto la digitalizzazione è un processo che migliora e può efficientare e può aumentare la produttività che è il grande male del nostro paese ma non basta senza fare anche quelli grandi processi tecnologici che riguardano di più il ferro riguardano di più processi concreti e quindi sicuramente quegli investimenti in ricerca sviluppo in nuovi materiali in nuovi carburanti in adattamento degli attuali sistemi di propulsione devono essere fatti però non possiamo come dire abbandonare la logica dell'ottimizzazione attraverso sistemi digitali soltanto puntando alle infrastrutture fisiche e alle tecnologie energetiche perché rischiamo di perdere quel boost che oggi può essere fornito e credo darebbe anche una sensazione un simbolo di come sia importante investire in questo settore Grazie Presidente Musolino a proposito di navi che inquinano con le ciminiere e il fumo Civitavecchia sta investendo molto sull'idrogeno diventate un indrogeno arbor Sì noi siamo orgogliosamente la prima Idrogen Valley Portuale italiana abbiamo vinto un progetto europeo già nel 2021 assieme alla regione Abruzzo e assieme all'Umbria e abbiamo già costituito e stiamo costituendo costruendo in realtà un parco fotovoltaico collegato a un elettrolizzatore per produrre idrogeno verde ci sono tutti i colori dell'idrogeno e non tutti l'idrogeno è uguale ce ne sono alcuni più uguali di altri per citare Orwell in termini di sperimentazione in realtà in termini di sperimentazione noi useremo l'idrogeno non come fuel ma come forma di stoccaggio di energia voi sapete che uno degli elementi principali delle rinnovabili è la discontinuità temporale se è eolico quando c'è vento se è solare quando c'è il sole e quindi c'è il problema che hai dei momenti di picco e dei momenti di non picco noi abbiamo realizzato una comunità energetica portuale non per autocelebrarci ma sei mesi prima che faceste la legge in Parlamento a Civitavecchia ma non perché soggenue la lampada ma perché bisogna fare le cose e allora cerchiamo di essere primi magari sbagliando che ultimi col sei in pagella copiato dal compagno di banco stiamo raccogliendo le adesioni all'interno di un processo di fotovoltaizzazione di recupero di energia dalle onde di efficientamento energetico noi stiamo creando anche un algoritmo a intelligenza artificiale che distribuisca in maniera ottimale l'energia prodotta in porto secondo i vari utenti partecipanti alla comunità e ogni qualvolta c'è un surplus lo stocca sotto forma di idrogeno poi può essere che nel prossimo futuro l'idrogeno arrivi anche a essere un fuel utilizzato per ma nel momento lo stiamo facendo con questa forma è chiaro che una volta che lo sai fare per 17 megawatt lo puoi fare per 170 megawatt la scalabilità è uno degli elementi di questo tipo di progetti vorrei però dire due cose perché mi è piaciuto molto quello che ha detto anche il senatore Basso però appunto io ritorno al mio pragmatismo scusate sono un portuale non potete pensare grandi elaborazioni filosofiche il primo cold ironing o OPS come lo chiamano nel mondo fuori dall'Italia io sto diligentemente facendo 80 milioni di arido investimento che mi sono stati dati dallo Stato attraverso il PNRR per fare le prese nel mio porto non entro nel discorso che non tutti i porti sono uguali perché alcuni hanno consumi più alti altri ne hanno inferiori e quindi fare un OPS su un piccolo porto del nord Europa non è la stessa cosa che farlo a Barcellona Civita Vecchia dove ricordo io in un sabato qualunque di luglio ho 13 navi da crociere ormeggiate e 5 e 5 traghetti quindi se io dovessi fornire energia elettrica a tutte le navi ormeggiate il Papa e il Primo Ministro vanno via con la candela rispettivamente al Vaticano e a Palazzo Chigi c'è un problema qualcuno dovrà dirmi una volta che io diligentemente ho fatto le prese come le approvvigiono queste prese e se quella energia elettrica non proviene da fonti rinnovabili io ho semplicemente mosso il momento emissivo dalla banchina a dove c'è la centrale e questo è un problema perché stiamo rischiando addirittura di fare del greenwashing nel senso stiamo raccontando alla gente che stiamo facendo una decarbonizzazione semplicemente perché in un'ottica nimble l'ho messa a 250 km dal porto prima o poi dovremo avere delle risposte non abbiamo nemmeno la risposta sui prezzi faccio un esempio a entrambi onorevole senatore se non abbiamo un accordo a meno a livello europeo sul pricing di questa energia elettrica noi ci facciamo un bellissimo dumping intraeuropeo perché il mio amico di Barcellona mette a un decimo il costo dell'energia elettrica quindi noi ci becchiamo l'inquinamento abbiamo fatto 80 milioni di investimento per regalare traffico a Barcellona cioè non tutto è oro quel che luccica non so se mi spiego quindi quando io le mi chiedeva se litighiamo non sempre però ogni tanto bisogna avere bisogna avere delle posizioni assertive direbbero gli inglesi no forti io sono stato a Cinea che è il luogo dove c'ho i cordoni della borsa dei progetti europei ho parlato con noi stiamo facendo un bellissimo progetto appunto sull'autostrada del mare che è andato molto bene con Barcellona adesso faremo la seconda call la case officer ci dice no ma intanto noi siamo pronti a fare un regolamento entro il 2026 di cold iron in obbligatorio in tutti i porti europei mi è venuto spontaneo chiedere ma quando è l'ultima volta che ha visto un porto lei dottoressa perché se lei pensa di fare questa cosa nel 2026 lei è delusional noi non siamo in grado non c'è nemmeno la rete elettrica quindi noi dobbiamo avere sicuramente gli obiettivi ma stiamo attenti a non fare una diagnosi perfetta che ammazza il malato perché la realtà proprio fattuale è diversa da quella che può avere in mente un legislatore addirittura un legislatore europeo poi essendo il mare un luogo senza confini se noi facciamo delle regole io ho la fortuna e l'onore di essere il presidente dell'associazione dei porti mediterranei dove abbiamo anche tutti i colleghi del nord africa molti colleghi del vicino oriente e sto cercando di espandermi anche verso il mar nero che è un naturale un naturale prolungamento del mediterraneo se noi facciamo delle regole stringenti nei nostri porti e i nostri amici penso a Tanger Med che in questo momento è il primo porto del mediterraneo quelle regole non ce le hanno perché non c'è un enforcement a livello di IMO noi saremo i più fighi del mondo con le regole più belle del mondo i porti vuoti la sostenibilità è un taveolino dei caffè a tre gambe ambientale economica sociale se io alzo di brutto una gamba e lei ci appoggia sopra la tazzina il caffè cade non è che rimane nè allora noi dobbiamo avere la capacità di crescere tutte e tre le gambe invece noi in Italia parliamo sempre solo di sostenibilità ambientale ma noi abbiamo anche l'obbligo di fare investimenti azioni che tengano conto del fatto che io non posso fare macelleria sociale perché devo fare tutto green o che distruggo il mio tessuto economico ricordiamoci la seconda potenza manufatturiera d'Europa prima potenza sullo short sea shipping anche questo diciamo poco però i principali armatori italiani mondiali del cabotaggio sono italiani tra i migliori produttori di navi quando si è fatta io purtroppo ho vissuto sulla mia pelle la terribile stagione da presidente del porto di Venezia dei luoghi comuni che hanno ucciso un mercato non lo dice mai nessuno che valeva 500 milioni di fatturato all'anno e 5.000 posti di lavoro reali non rimpiazzati ok su Venezia si è fatto un lavoro di luoghi comuni di non pensare realmente alle cose che si potevano fare di voler parlare solo di sostenibilità ambientale in una città sono un po' accalorato perché è la mia città natale che ha perso due terzi degli abitanti dal 1961 e a me sinceramente è vero che mi deve preoccupare l'ambiente ma mi deve preoccupare anche le persone perché l'ultima volta che io avevo controllato le persone creano le pietre che fanno i palazzi non viceversa c'è una città svuotata di abitanti che ha il porto super ambientalmente compatibile ma non c'è un posto di lavoro ancora ho svolto la mia funzione come autorità portuale forse no quindi il lavoro che io sto cercando forse un po' così anche con un po' di carica di fare è proprio quello di cercare di coniugare che forse è la vera sfida del ventunesimo secolo lo sviluppo economico con una compatibilità ambientale che però non può diventare l'unico metro di misura noi dobbiamo fare azioni che puntino a quello ma che ci permettono appunto di creare posti di lavoro magari facciamo un ragionamento sulla legge per esempio sui porti facciamo un ragionamento sul lavoro portuale i porti sono sempre stati elementi labor intensive no c'erano i portuali che andavano a scaricare le merci e quant'altro l'avvento della tecnologia della digitalizzazione non andrà in quella direzione probabilmente ci saranno meno portuali ma se li prepariamo li formiamo gli diamo tutte le capacità tecniche tra augmented reality virtual reality IoT IoT tutte cose che sono già lì non è che sono il futuro di Blade Runner ok sono già lì noi avremo dieci portuali che assomiglieranno di più a un tecnico della NASA piuttosto che a uno scaricatore degli anni 50 invece di essere pagati 800 euro all'ora 3000 euro all'ora per cui però dobbiamo averlo questi cambiamenti in testa perché se noi pensiamo di continuare a fare il porto degli anni 50 col camallo che scarica sottopagato non facendo la parte sulla digitalizzazione non creando nuovi posti loro non investendo in questo prima o poi ci facciamo male poi due sane provocazioni io non la sposo strasposo l'idea della digitalizzazione ma noi stiamo ancora parlando di fare il PCS oggi alle 5 c'è una riunione credo la 172esima da quando sono presidente nella quale stiamo ancora parlando se facciamo il PCS spiegazione PCS port community system la digitalizzazione di una serie di processi che oggi sono cartacei ce ne erano 131 distribuiti in 23 autorità adesso li stiamo digitalizzando ma noi stiamo ancora parlando di questo che se lo raccontiamo in giro per il mondo ci ridono in faccia perché gli altri porti Rotterdam fuori dall'Europa sono alla 4.0 alla sesta versione noi stiamo ancora discutendo se lo facciamo capisce e tra l'altro lo Stato nel corso di 7 anni ha speso 100 milioni di euro per non farlo io un giorno chiesi allo sviluppatore mi fai vedere un beta di sto PCS mentre non c'è scusa non sono abituato a parlare di materie iperuraniche cioè noi dobbiamo sicuramente avere la visione il legislatore deve fare questo lavoro di innovazione però dobbiamo anche essere molto attaccati a terra perché altrimenti appunto abbiamo delle teorie meravigliose delle norme meravigliose boom e sulla linea del fronte perché io sono semplicemente un fante sulla linea del fronte abbiamo delle difficoltà enormi abbiamo dei gap enormi il vantaggio che ci può dare questo grande riequalizzatore la trasformazione ecologica che qui ci può permettere di avvicinarci a porti che magari sulle infrastrutture fisiche sono partiti prima di noi è però se perdiamo sto treno perdiamo un treno che non riprendiamo almeno per una ventina d'anni e appunto da umile manovale vi chiedo questo dateci anche degli strumenti efficaci ed effettivi che ci permettono di agire con tempi che non sono quelli biblici altrimenti ottime le idee ottime le capacità ottime le possibilità potenziale importantissimo il ragazzo si impegna ma non si applica capisce? ecco questo è un po' il mio unico warning che dico su sta cosa qua poi noi giustamente dobbiamo rendere conto di quello che facciamo ci stiamo provando il presidente lo sa perché gli rompo l'anima spesso e volentieri si fa mi diceva sempre chi fa chi sa fa bisogna saper fare le cose e farle e rendere conto però abbiamo bisogno anche di una chiamiamola di un'infrastruttura giuridica e amministrativa che insomma è spesso e volentieri incompatibile in questo momento con i tempi che ci richiedono i mercati e anche i risultati da ottenere posso una battuta solo velocissima? non posso niente grazie no perché condivido moltissimo quello che è stato detto non vorrei che passasse un messaggio ovvero che andare a inseguire quella terza gamba quella della sostenibilità e della digitalizzazione fosse in contrasto con la crescita e la sostenibilità economica e sociale perché a mio avviso è esattamente il contrario sono certo che su questo la pensiamo uguale però come dire su questo io ci tengo perché appunto pure nelle divisioni ci sono dei punti che sono che contraddistinguono appunto la politica europea forzare sulla sostenibilità vuol dire forzare processi e sulla digitalizzazione che aumentano la competitività delle imprese la competitività degli scali l'impatto sociale perché è evidente che è un porto come dire più green permette una coabitazione con le persone quindi il fatto che le persone rimangano vicino a un porto ad abitare quindi siamo d'accordo sono completamente d'accordo ecco secondo me alzare quella gamba significa far sì e forzare che anche le altre due gambe vengano alzate vediamo con il presidente no sono d'accordo mica finita qua sono d'accordo vediamo diceva uno cito il manzoni adelante ma con giudizio quindi la transizione ecologica deve essere fatta ma con giudizio lì aggiungeva si può adesso si può fare ma quanto ha detto anche il presidente Musolino noi siamo davanti noi abbiamo fatto un bando come ministero anche non era questo esecutivo non l'altro mettendo dei fondi 500 milioni per rinnovo della flotta sono stati poi utilizzati solo 120 milioni ma perché poi gli armatori per esempio vanno in Cina qualche armatore va in Cina a costruire le navi nonostante noi siamo i migliori però ci sono dei costi in Italia e in Europa che ovviamente altri paesi non è vero che stanno perseguendo lo stesso obiettivo perché la Cina che si vanta di questo essere il primato delle rinnovabili però intanto ha attivato non so quante nuove miniere a carbone e sta producendo a tutto il ritmo fregandosene un po' di quella che è la transizione economica ecco quello che noi chiediamo che ovviamente l'Europa prenda atto che siamo i più bravi i più belli e noi ci mettiamo il problema giustamente anche nel Mediterraneo per seguire determinati obiettivi però se il Nord Africa e l'Africa non seguono lo stesso obiettivo se gli altri continenti non si pongono lo stesso obiettivo l'Australia sta facendo un progetto è molto avanti per esempio sull'idrogeno anche l'idrogeno pulito anche per l'automotive noi stiamo prendendo contatti per esempio anche con un collega del senatore che è eletto in Australia alla Camera quindi stiamo cercando di collaborare però ci vogliono i tempi quando si parla di un strumento l'elettrico è bello ma ripeto tutti adesso macchine elettriche autobus elettrici poi io in audizione scopro che gli autosoccorritori stradali mi pongono il problema noi abbiamo paura di intervenire perché ripeto il rogo da combustione dovuto all'elettrico non si spegne facilmente come ci dovete dare gli strumenti o c'è una proposta di legge in commissione dell'opposizione che parla sostituiamo tutti i mezzi dei porti degli aeroporti con macchine automezzi elettri sì però hanno il triplo quadruplo del costo quindi chiedono tutti anche i soggetti privati allo Stato dateci gli incentivi quindi è un costo per la comunità quindi tutto può essere fatto ma non possiamo farla a discapito di settori o comunque senza tener conto del costo sociale che si ha nella società questo lo stiamo facendo rispondo io noi collaboriamo bene con l'opposizione questa legislatura perché durerà perché c'è ben chiaro chi è maggioranza e chi opposizione c'è chi loro il presidente Musolino mi ha accolto nella sua autorità portuale quando sono uscito è uscito il titolo del giornale l'autorità chiede al governo 45 milioni il governo mi ha ringraziato per questa visita e mi ha detto non azzardarti più andrà a civiltà vecchia che torniamo col conto di 90 milioni ecco non ci vado più ogni parlamentare che viene io li li c'è una buona collaborazione c'è una buona collaborazione anche con l'opposizione per esempio le risoluzioni sui porti finalizzate poi a dare la delega al governo sui porti sono una di Fratelli d'Italia del centro-destra una del PD della collega quindi stiamo collaborando perché poi sui porti non ci può essere destra o sinistra o non ci può essere divisioni ideologiche ecco sulla transizione c'è una differenza proprio di sensibilità quella che non c'è per esempio sulla digitalizzazione dove si può lavorare insieme col Dipartimento d'Italia Digitale proprio per raggiungere degli obiettivi non mi si offenderà il Presidente Musolino io ho incontrato la fondazione digitale e io so che per esempio l'autorità portuale di Spezia ha il primato forse ha ideato un sistema molto innovativo sulla digitalizzazione ecco sarebbe bello proprio quando parlo di litigare d'autorità portuali per esempio non ci deve essere concorrenza fra Spezia e Genova in una stessa regione ma tutti e due hanno la loro importanza anche se so in commissione in politica quanto Genova stiene al primato però tutti hanno la loro importanza però stavamo pensando anche in Liguria di fare un incontro proprio sulla digitalizzazione e parlare del primato comunque di chi ha portato avanti progetti innovativi non mancheremo di invitarla perché so quanto è sensibile il presidente dell'autorità però parlare proprio delle esperienze positive che ci sono nel mondo portuale Spezia ha dato un sistema che è sicuramente innovativo e che possiamo portare avanti grazie c'è un ultimo brevissimo passaggio ed è un video che chiedo di trasmettere perché aspetta solo un attimo a farlo a farlo partire non è questo il video penso che non sia questo il video era il secondo video vediamo perché è un video che è stato realizzato da GEA da due colleghi Carlo Fumagalli e Mirco Nuzzolo insomma lavorano con le università stanno facendo un bellissimo progetto questa era una piccola anticipazione penso che non sia questo però facciamolo partire vediamo intanto io vi spiego tanto non parte quindi il problema non si pone sì invece è questo quella è quello è uno scambiatore di calore che deve andare in Cina è dovuto passare attraverso la nave la gomma e ci ha messo ed è proprio è comparso e ci ha messo un sacco di tempo per arrivare quindi c'è anche un problema proprio infrastrutturale che riguarda l'Italia però è un tema che affronteremo più avanti mi piace chiudere questa lunga giornata di dibattiti molto interessanti con il messaggio che ci ha mandato il vice ministro Rixi che oggi è impegnato a Genova non ha potuto essere con noi il ministro Rixi oltre che essere il vice ministro dei trasporti è un tecnico e ha particolarmente a cuore il sistema portuale ha partecipato di recente al G7 in Giappone è una persona autorevolissima io prego di mandare questo video è molto piccolo in questo momento buona giornata a tutti sono a portare i saluti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti a questa assemblea in questi mesi stiamo vivendo momenti di difficoltà visto i rapporti molto difficili anche con i vicini francesi sulla crisi che è avvenuta buona giornata a tutti sono a portare i saluti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti a questa assemblea in questi mesi stiamo vivendo momenti di difficoltà visto i rapporti molto difficili anche con i vicini francesi sulla crisi che è avvenuta sia sul sul fregius in particolare per quanto riguarda la catena logistica del ferro avremo l'interruzione della linea di un anno e poi i lavori sul tunnel del monte bianco che stiamo cercando di diminuire per consentire il passaggio almeno dell'autotrasporto pesante è evidente che in questa situazione per noi è fondamentale ribadire quelli che sono i nostri obiettivi individuando risorse come quelle del pianerario PNC 50 miliardi assegnati alla digitalizzazione del sistema 70 miliardi sulla transizione ecologica e sui nuovi carburanti 30 miliardi allo sviluppo di una rete infrastrutturale che deve essere supportata da una capacità tecnologica e soprattutto da un revamping importante e in alcuni casi da una completa edificazione di alcune sue parti noi abbiamo un paese che basa sulla sua capacità logistica la sua forza industriale siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa abbiamo bisogno di un libero accesso nei mercati del centro Europa che rimangono per noi punto di riferimento ma anche abbiamo le necessità di un accesso al mercato mondiale tramite il nostro sistema e la nostra rete portuale quindi per noi l'interconnessione infrastrutturale è fondamentale sempre di più la digitalizzazione dei processi la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale anche nella gestione dei flussi delle merci e delle persone ci consentirà di rendere più efficiente il sistema in tempi relativamente brevi mentre investimenti infrastrutturali il completamento dei corridoi europei previsto con il PNR nel 2026 ci consentirà una visione di medio-lungo periodo di crescita del paese di fluidificazione del sistema logistico è fondamentale sostenere anche l'innovazione tecnologica nel settore dei carburanti e della mobilità per tanto tempo è stata definita l'unica mobilità su cui ci sarebbe spostato il nostro paese è quella elettrica oggi noi sappiamo che quello a cui noi dobbiamo tendere è un'invarianza tecnologica con una riduzione delle emissioni e possibilmente un accorciamento delle filiere produttive anche in ambito energetico per consentire al nostro paese di gestire una delle variabili che in un paese sviluppato è cruciale ossia il costo dell'energia la capacità di produrci energia sul territorio nazionale di poterla distribuire veicolare e di essere meno dipendenti rispetto alle forniture estere ci consente di eliminare una seconda variabile che è quella dei mercati mondiali e soprattutto della geopolitica che negli ultimi anni ha cambiato completamente i paradigmi della nostra economia che si basava su fonti fossili imprevalentemente gas naturali acquistato a basso prezzo che garantiva l'approvvigionamento energetico del paese la crisi ucraina e ancora prima il tema del covid hanno fatto cambiare completamente l'impostazione logistica e una profonda ristrutturazione oggi l'Italia è un hub sul Mediterraneo sarà sempre di più anche un hub energetico ma anche la possibilità con investimenti e con nuove tecnologie di produrre filiere industriali sul proprio territorio anche in campo energetico per questo il governo è molto intenzionato a rilanciare aziende come Ansaldo Energia e come il settore nucleare soprattutto di nuova generazione ma anche guardare sulla capacità di nuove innovazioni sul tema dell'idrogeno dell'idroelettrico e dei biocarburanti o che oltre che ovviamente del solare e dell'eolico stiamo diciamo cercando di influenzare e di revisionare una direttiva europea rispetto all'ETS che penalizza particolarmente i porti del nostro paese riguardanti alle emissioni in particolare il porto di Giulia Tauro ma non solo discapito a porti che producono più emissioni ma si trovano in territorio extraeuropeo come Portside e Tangeri ma è evidente che dobbiamo riuscire a fare innovazione tecnologica puntando anche alla capacità di trasmettere in rete l'energia anche quella elettrica visto che saremo di fronte anche a un cambiamento epocale sulle reti di distribuzione sempre più si va verso le smart grid e soprattutto si dovranno ridefinire le grandi dorsali si dovrà aumentare la capacità di trasporto di energia e quindi anche puntare sui superconduttori e puntare sul fatto che i nostri porti dovranno essere accessibili anche a navi che gestiscono nuove tipologie di carburanti oggi il mercato non è ancora delineato non sappiamo quali saranno i carburanti che domineranno nel futuro questo è il momento della ricerca delle scelte e soprattutto degli investimenti in questo momento il nostro paese è aperto all'innovazione tecnologica come non mai e speriamo che con giovani start up e soprattutto con la capacità di generare un futuro migliore del presente si possa tutti assieme contribuire alla realizzazione di una nuova Italia che sia in grado di soddisfare una domanda logistica crescente ma non a discapito dell'ambiente o del territorio per questo abbiamo bisogno di nuove idee abbiamo bisogno di finanziare nuovi progetti e auguro fortuna buon vento e soprattutto una disponibilità da parte del governo di interloquire per far sinergia tra pubblico e privato grazie non ci sente ma io lo ringrazio lo stesso il viceministro Rix io credo che con questo inno alla speranza possiamo chiudere questa giornata dare appuntamento a Bruxelles il 6 di dicembre saremo ospiti nella sede dell'ambasciatrice Fabi e ci sarà fare gli onori di casa Lorenzo Robustelli che oggi ha battuto un po' la fiacca ma ha moderato un panel ma vi toccherà a lui fare la parte del leone e io ringrazio tutti i nostri partner i nostri media partner voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci e buon pomeriggio e a presto grazie